Devo dire che sono molto contento di parlare in questo momento della mia mamma perché fin da bambino sono successe delle cose che mi hanno sempre tormentato durante la notte. Io avevo già passato i bombardamenti a Torino con mia mamma perché mio padre essendo stato richiamato due volte alle armi e dovendo lavorare fuori Torino eravamo sempre tre persone staccate che ognuno viveva un po' per conto suo ed io ero allevato a San Giusto Canavese dalla mia nonna e dai miei zii. Un giorno parlando con un mio conoscente che è ancora un parente le ho detto guarda che mia mamma aveva salvato quella casa perché adesso voi la vedete mal ridotta e sembra una donna insignificante però quello che ha fatto lei nessuno lo sa perché lo sapevamo solo io e lei perché lei mi ha detto non diciamo niente intanto nessuno ha visto nessuno nessuno ci crederà poi passando gli anni tutto io ho detto no io queste cose le devo dire anche perché quella persona che con la quale ho parlato mi ha detto non raccontare storie e da quando mi è stato detto non raccontare le storie allora io mi sono prefisso che io l'avrei raccontato dall'inizio fino alla fine fu così che i miei questi tre giovani i nipoti di mia madre avevano la casa che dove stava per essere bruciata e nel parco nel podestà di San Giusto era riuscito a fare qualcosa mia madre che è arrivata da Torino è andato nella casa affrontato il i tedeschi il che c'era un ufficiale un sottoposto e gli ha raccontato tutta la storia della famiglia e ha convinto questo ufficiale il quale ne avrà parlato con i superiori e la casa non è stata bruciata